Buonasera, benvenuti all'Aidra, sono Niccolò Marcei e vi accompagno all'interno del nostro stand, dove quest'anno per noi rappresenta un anno veramente importante, visto che è il nostro 25esimo anniversario e abbiamo deciso di fare un'installazione proponendo sulla perimetria di tutto il nostro stand le immagini di quelli che sono i prodotti che fanno parte della nostra collezione. In quest'anno abbiamo introdotto tre nuovi pezzi e un contenitore due poltrone, i quali sono stati disegnati, questi contenitori sono stati disegnati dall'architetto Massimo Morozzi e sono dei contenitori impiallacciati con legno di palissandro, hanno quattro finiture differenti e hanno una caratteristica particolare che è l'apertura tramite una pedaliera che si riprende alle immagini di quelle pianoporte. Sono lavorati a 45 gradi e sono dei pezzi che danno una unicità proprio per il disegno che ogni pianta ha in sé, all'interno dei quali hanno, abbiamo deciso di inserire anche una codifica, una codifica proprio per questa caratteristica di unicità, di lavorazione e di disegno che presentano all'esterno. Abbiamo presentato la versione verticale, diagonale, quella random e la leopardo. Interessi un accordo? Sì, questa è una lavorazione manuale e estremamente affinale che richiede delle grandissime sapienze che con grande piacere sono parte del territorio dove è situata la nostra azienda, che è la Toscana. Oltre a questi prodotti abbiamo deciso di mettere qua sullo stand parte dei divani e delle sedute che più rappresentano. Qua possiamo vedere divani privi di struttura, come non ve l'ho, che mi sono bisogno della Francesco di fare nel 2004. È un divano che permette molteplici possibilità di seduta, proprio per questa possibilità che ha di muovere, di avere una seduta totalmente distaccata dallo schienale e delle grandi isole che appunto permettono delle composizioni estremamente versate all'interno dell'uso abitativo. Tra gli altri prodotti nuovi che abbiamo inserito in collezione abbiamo una poltrona che è derivato del nostro divano cipria. È una poltrona che è rivestita in pellice ecologica. È tentata appunto a far parte della nostra collezione quest'anno. Il divano era entrato in collezione del 2009 e quest'anno i design di Fernando e Umberto Campana hanno deciso di sviluppare anche questa seduta singola che permette la seduta sia in questa parte che sul bracciolo. L'altra novità che abbiamo inserito nella nostra collezione è una poltrona stata disegnata da Francesco Bimparè con il quale abbiamo una collaborazione da molti anni. Secondo noi il signor Bimparè è una delle figure con la più alta esperienza nel settore degli imbottiti. Sì, è una poltrona estremamente, è una poltrona estremamente versatile perché ha un meccanismo un meccanismo in ingegneria interna molto interessante. Però tutto questo è rivestito da una morbidissima, da una morbidissima struttura in spuma. Appunto ha la possibilità del movimento che permette una totale, differente configurazione estetica e un comfort estremo. Questo dovuto alle grandi qualità sia interne che di disegno che hai il prodotto stesso. Per questo io vi invito anche a provarla nel nostro showroom di Via Ciovarcia.